Un'altra derivazione che è presente, che nasce dal testo di Benjamin, cioè il concetto di nuda vita, Benjamin sostiene che tutta la struttura giuridico-politica moderna che si vuole come struttura di protezione della vita, è invece una struttura che spoglia la vita, la rende nuda, la spoglia di ogni qualità e la considera semplicemente qualcosa di biologico. La nuda vita è il prodotto della sovranità decidente. La sovranità, cioè la violenza che pone il diritto, mentre pone il diritto, trasforma la vita in nuda vita. Bios in Zoe, secondo Agab. Durante la fase del lockdown si è detto, si sono adoperate queste categorie, voi capite, sono categorie fortissime, sono categorie che hanno in sé una carica di radicalità e di destrutturazione verticale, abissale, letteralmente abissale. Si sono adoperate queste categorie per dire che durante la fase del lockdown la sovranità aveva finalmente gettato la maschera e si manifestava nella sua forma più radicale, cioè nel suo produrre nuda vita, il che vuol dire produrre una vita priva di legami, una vita slegata, una vita dissoluta, cioè una società fatta di individui tutti alla mercè, come ciascuno, come singolo, del potere sovrano. La decisione è questa. La sovranità taglia le apparenze di legame che la società e gli individui in essa avevano creati e riporta gli individui alla condizione moderna originaria, cioè individui che chiedono e non possono essere altro che chiedono di vivere e non possono essere altro che trattati come esseri zoologici, dei quali si può disporre o allevandoli, mantenendoli in vita, o consegnandoli alla morte in vario modo, consegnandoli al carnefice oppure lasciandoli morire.